Sarà uno dei pontili più lunghi d'Italia, che correrà complessivamente per circa 300 metri dal Renile al mare per riqualificare la zona di Fosso-Mazzocco a Montesilvano. Il progetto di mitigazione ambientale di un'area interessata da problemi di scarico delle acque bianche di Fosso-Mazzocco avrà un costo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro e diventerà una cartolina turistica per la città adriatica. Presentato da Sibconf Commercio Abruzzo potrebbe concretizzarsi entro il 2023. Riccardo Padovano, presidente di Sibconf Commercio Abruzzo, oggi presentate questo progetto di mitigazione ambientale di Fosso-Mazzocco a Montesilvano. In cosa consiste? Presentiamo un progetto come dono della cooperativa balneare Sindacale Italiano-Balneare Conf Commercio perché ci rendiamo conto che bonificare quest'area significa dare lustro alla città e noi come balneatori dobbiamo comprendere e capire che dobbiamo investire non soltanto sulle nostre attrezzature ma anche sul bene pubblico. Questo cosa significa? Che noi porteremo le acque di scolo, che sono acque depurate, a 300 metri dalla costa ma non lo portiamo con un semplice tubo però quel tubo viene ricoperto da un pontile che diventa una delle più belle cartoline che Montesilvano possa presentare. Tutto questo lo facciamo da due anni che ci stiamo lavorando, devo dire grazie al Comune di Montesilvano che ci ha creduto e che ci ha promesso che troverà i fondi giusti dove non arriva il Comune molto per me ci metteremo le mani in tasca e daremo un grande contributo. Per intenderci sarà una sorta di pontile un po' come quello di Francavilla al mare? Intanto sarà il più bello di Francavilla per precisarsi. Molto per me sarà il pontile più lungo d'Italia perché il più lungo sta forse le marmi e noi lo superiamo di 40 metri. Sulla testata ci sarà l'ubicazione di infrastrutture che può essere il trabocco. C'è un'altra questione da tenere conto che noi sfrutteremo l'energia sia dell'acqua che dell'impianto solare e quindi avremo anche l'energia sufficiente per illuminare il lungomare. Poi ci sono i punti di ormeggio, ci sta la barca che arriva, imbarca i viaggiatori e fa la gita turistica, stiamo facendo una rivoluzione. Quanto sarà lungo esattamente questo pontile? 140 metri in parte rigida dalla battigia e ulteriore 140 metri su palafitte per arrivare a circa 300 metri dalla costa. Tavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, questo progetto quando potrà finalmente vedere la luce ed essere concretizzato? È un progetto per il quale abbiamo avuto interlocuzioni con la regione e sia il presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri che il presidente Marco Marsiglio, quando incontrati per ragionare il progetto, hanno dato ampia disponibilità a ricercare dei fondi al fine di portare a compimento l'opera nel giro di due anni, a partire da oggi. Quindi nel 2023 noi ci auguriamo di poter regalare alla città, per il tramite della cooperativa balnearia che ringraziamo, un'opera strategica da un punto di vista turistico ma anche ambientale.